Non c'è lo scuola Bussaluni impossibilitati a raggiungere l'istituto omnicomprensivo di Casacalenda. A lupare alla protesta dei genitori, 22 piccoli scolari disertano le elezioni. Il nuovo contagi e due ricoveri in malattie infettive. La buona notizia è la guarigione di 5 persone. Eternit sulla collina Monforte di Campobasso, l'area bonificata nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il Mondo. Portati via anche pezzi di mobilia, siringhe, stufe, carriole e ringhiere di ferro. La basilica minore della Dolorata di Castelpetroso è un gioiello architettonico che da oggi splenderà anche dopo il tramonto del sole grazie all'illuminazione artistica derivante dal progetto Giubileo della Luce. Sostegno agli immigrati. Il comune di Campobasso presenta il progetto Prism 330.000 euro per il sostegno organizzativo e servizi agli operatori pubblici che lavorano a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti. Calcio Serie D. Il Campobasso parte forte, rifila tre gol all'Aprilia. Show di Vittorio Esposito in gol pure Bontà e Cogliati. Il vasto Girardi espugna Giulia Nova, l'Agnone affonda al Civitelle. Un cordiale saluto a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale. In apertura ci occupiamo della situazione di Lupara dove non c'è lo scuolabus. Alunni quindi impossibilitati a raggiungere l'Istituto Omnicomprensivo di Casa Calenda. La protesta parte ovviamente dai genitori. Intanto 22 alunni sono stati costretti a restare a casa. A Lupara la protesta di genitori e piccoli alunni sostenuta dagli attivisti del SOA Scolari senza scuolabus per raggiungere l'Istituto di Casa Calenda. A dire il vero il trasporto è garantito ma è promiscuo sullo stesso mezzo scolari e operai che raggiungono termoli per andare a lavorare. Genitori sul piede di guerra costretti a scegliere per i propri figli tra il sacrosanto, diritto alla salute e quello all'istruzione. Noi oggi ci troviamo di fronte ad un bivio. Scegliere tra il diritto alla salute e il diritto all'istruzione. Oggi noi fino a quando non avremo risposte concrete dall'istituzione sceglieremo il diritto alla salute, ma non il diritto alla salute solo per i nostri bimbi. Qui parliamo del diritto alla salute anche per i bimbi della scuola dove vanno i nostri figli. Perché purtroppo oggi noi non abbiamo un mezzo di trasporto esclusivo che porti i nostri figli a scuola. Abbiamo un mezzo di trasporto promiscuo dove c'è gente che lavora a termoli Campobasso che può essere motivo di contagio, può essere pericoloso per tutta la scuola. Quindi da oggi fino a quando non avremo una risposta certa e concreta sulla sicurezza dei nostri figli non li manderemo a scuola. Sono 22 gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel comune di Lupara che frequentano l'omnicomprensivo di Casa Calenda. Non avendo la scuola in paese né uno scuolabus dedicato, da oggi diserteranno le lezioni. Il trasporto non si è garantito nemmeno l'anno scorso. L'anno scorso siamo riusciti ad ottenere un accompagnatore. Quest'anno con il discorso del Covid e con un trasporto promiscuo non possiamo mettere a rischio la salute dei nostri bimbi e la salute degli amici dei nostri bimbi. Quindi parliamo di un plesso scolastico a rischio visto la situazione del trasporto. E adesso, vista che c'è stata una strada, si è puntati su un polo di aria, il polo di aria deve essere in qualche modo raggiungibile in maniera edonea. Protesta sostenuta anche dal primo cittadino di Casa Calenda, Sabrina Lallitto. Mi sento di sostenere come madre e come sindaca la protesta di questi genitori. Tutelare il diritto allo studio, dice, significa anche dare la possibilità di raggiungere i plessi scolastici che si desidera frequentare. Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado residenti nel comune di Lupara sono costretti a grandi sacrifici e per questo io sarò sempre a loro fianco. Sono le parole di Aida Romagnolo che ha manifestato quindi subito il proprio interesse per risolvere il problema. I servizi di trasporto garantiti nella zona, detto, sono soltanto quelli pubblici affollati e frequentati da numerosi lavoratori, peraltro in servizio presso fabbriche e ospedali che potrebbero mettere a repentaglio la salute degli alunni. Ho quindi presentato una mozione in Consiglio regionale, conclude la consigliera, con la quale ho chiesto l'impegno al Presidente della Giunta e all'assessore competente di attivarsi con la massima urgenza per garantire la dotazione di uno scuola bus al comune di Lupara e per garantire una corsa da parte del trasporto pubblico locale riservata esclusivamente agli stessi studenti assicurando in questo modo il trasporto in sicurezza e nel rispetto delle norme di contenimento della pandemia da Covid. E a proposito di Covid, il virus continua a circolare, ci sono 4 nuovi contagi, 2 ricoveri in malattie infettive. La notizia buona è che ci sono però anche 5 persone guarite. 5 guariti, 4 positivi sono i numeri dell'ultimo bollettino sul coronavirus diffuso dall'azienda sanitaria regionale. Dunque il virus non si ferma. 3 dei 4 positivi, Campobasso, Ripavottoni, Campomarino, sono legati a cluster noti. Il quarto è una persona di Monteroduni, Asrem, al lavoro per ricostruire la catena dei contatti. 5 invece i guariti, 2 a Campobasso e Gambatesa, 1 a Colle d'Anchise. Di contro salgono a 7 i ricoverati nel reparto Covid dell'ospedale Cardarelli. Si tratta di due persone legate al cluster di Porto Cannone trasferite in malattie infettive. 336 i tamponi processati nelle ultime ore, 146 i casi attualmente positivi, 116 i asintomatici a domicilio, 232 i soggetti in isolamento. Materiale in Ethernet che poi è stato opportunamente isolato e segnalato agli uffici preposti per le necessarie operazioni di rimozione e bonifica, poi siringhe, stufe, televisori, carriole, pezzi di mobilia, ringhiere di ferro, scarti edili, reti metalliche, filo spinato, materassi, sedie, biciclette, bottiglie, spazzatura di ogni genere, trattori, giocattolo. Questo è quanto è stato rinvenuto durante la bonifica realizzata nel capologo molisano lungo il sentiero che da Vico Portafreddo conduce verso la chiesa di San Giorgio nel cuore del centro storico. La bonifica è stata effettuata nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il Mondo, promossa dal comune di Campobasso in collaborazione con la SEA, con la partecipazione del circolo di lega ambiente cirese, le associazioni centro storico, cittadinanza attiva, primo marzo dalla parte degli ultimi e con il supporto degli operatori di vigilanza ambientale. Per smaltire tutto il materiale recuperato ci sono voluti ben sei carichi dei mezzi cassonati messi a disposizione della SEA. Cade in un pozzo profondo 15 metri durante una battuta di caccia, ne esce indenne grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Campobasso. Protagonista dell'episodio è accaduto a Pietracatella, un cane da caccia. L'animale è stato salvato dalla squadra dei vigili del fuoco SAF, specializzata nel soccorso speleo alpino fluviale, in zona anche i carabinieri forestali della stazione di Santa Croce del Sagno. Lo stiamo vedendo in queste immagini il momento in cui un vigile del fuoco ha portato fuori dal pozzo il piccolo cagnolino da caccia. Presentato questa mattina al comune di Campobasso, è un progetto finanziato con 330 mila euro a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che ha come obiettivo il sostegno all'integrazione per i migranti che soggiornano regolarmente sul territorio. Si è svolta questa mattina a Palazzo San Giorgio la presentazione del progetto PRISM. A illustrare nei dettagli obiettivi e modalità d'attuazione dell'iniziativa, dopo il saluto del sindaco rivolto a tutti gli intervenuti, è stato l'assessore alle politiche sociali del comune di Campobasso, Luca Praetano, insieme ai rappresentanti degli altri partner del progetto. Il progetto PRISM è un progetto di supporto agli enti locali, un FAMI per il quale il comune di Campobasso si è candidato con alcuni partner. Riusciremo in questo modo a dare supporto ai comuni, nei confronti di persone di paesi terzi, che dovessero trovarsi in difficoltà. Si tratta anche di una informazione e condivisione di buone prassi, 330 mila euro che servirà per tutti i comuni della regione morise. Diverse le attività operative previste all'interno dell'iniziativa, e lo ha precisato il sindaco Roberto Gravina, si procederà quindi alla stipula di un protocollo per coinvolgere attivamente ulteriori soggetti pubblici e privati che operano in Molise, i quali potranno contribuire a migliorare i servizi del territorio molisano in favore degli stranieri, offrendo loro nuove occasioni ed opportunità di integrazione sociale, economica, culturale e lavorativa. Ringrazio tutti gli elettori di Rocca Ravindola e di Masserie La Corte che in occasione del referendum costituzionale del 20-21 settembre scorso con grande senso di responsabilità si sono recati a votare a Montaquila, presso l'edificio dell'ex presidenza scolastica. Sono queste le parole del primo cittadino Marciano Ricci che continuano una nota. La scelta della mia amministrazione di concentrare tutte le sezioni elettorali nello stesso edificio è stata presa al fine di evitare la chiusura dei plessi scolastici dei due centri a pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Gli elettori, conclude il sindaco, hanno apprezzato questa decisione dimostrando grande senso di responsabilità, essendo coscienti che è stata effettuata per proteggere i nostri concittadini più deboli e i nostri bambini che rappresentano il nostro futuro. La Basilica Minore della Dolorata di Castelpetroso è un gioiello architettonico che da oggi splenderà anche dopo il tramonto. Sentite perché. Il progetto Giubileo della Luce è stato ideato dal Ministero dell'Ambiente dall'Anci per coniugare sostenibilità ed efficienza energetica con la valorizzazione del patrimonio religioso, culturale ed ambientale dei comuni italiani. Al progetto è aderito anche l'amministrazione di Castelpetroso. E così, nell'ambito dei festeggiamenti per il 130esimo anniversario dalla fondazione della Basilica Minore della Dolorata, c'è stata l'accensione dell'illuminazione artistica dalla presenza delle autorità religiose, civili e militari, oltre ovviamente a tanti fedeli. Certamente è motivo di grande gioia per tutti noi l'accensione di questa nuova illuminazione in Basilica che mostra in maniera più evidente e dà il giusto risalto alla lanterna che è posta sulla sommità della nostra cupola. È così nota e così riconoscibile per tutti coloro che passano qui sulla strada e che hanno modo ancora durante la notte, non solo più durante il giorno, di rivolgere il loro sguardo a questo santuario, a questo luogo così bello e così luminoso dove Maria ci consola in tutte le nostre angustie, in tutte le nostre necessità. E la illuminazione anche del viale che circonda il santuario è a corredo per sottolineare la bellezza artistica di questo monumento così caro al cuore dei molisani e non solo dei castellani ma dei molisani e di tutte quelle persone che anche dalle regioni limitrofe venerano con grande amore la Vergine addolorata che qui siede regina. Quindi sia il viale sia la lanterna sono gli altri due elementi che aggiungiamo alla già bella illuminazione della facciata che abbiamo realizzato grazie a sponsorizzazioni private qualche anno fa. Ci auguriamo che questo santuario, oltre ad essere così illuminato dalla luce dell'elettricità, possa ancora di più risplendere per la luce della bellezza spirituale e della consolazione che può emanare nel cuore di tutti quanti gli uomini e le donne del nostro tempo. Il nuovo progetto va a completare l'impianto di luci già esistente. Accanto all'illuminazione della sola facciata però, sono stati installati dei punti luce che enfatizzano le geometrie della cupola e del timpano. Inoltre sono state posizionate luci all'interno per illuminare le vetrate artistiche di cui è ricca la basilica con la creazione di suggestivi giochi di chiaroscuro. Dunque un gioiello religioso ed architettonico che da oggi sarà luminoso anche dopo il tramonto del sole. Il progetto del Giubileo della Luce nasce da un'idea di alcuni amici che segnalandoci l'avviso proposto da ANCI e dal Ministero dell'Ambiente hanno ben pensato di coinvolgere il Comune di Castelpetroso e automaticamente anche il Santuario della Dolorata che è parte integrante del nostro territorio oltre che motivo di grande vanto e di grande pregio per tutta la Regione Molise. Ricordo ancora quando iniziamo questa avventura si tratta ormai di circa tre anni fa che il progetto era insomma un po' diverso rispetto a quello che poi si è concluso però comunque si è sempre trattato di un intervento teso al miglioramento artistico di questo importantissimo logo sacro che appartiene a tutti noi cittadini molisani. Si sono svolte le elezioni per il rinnovo dell'ordine dei giornalisti del Molise la lista ordine povero capeggiata da Vincenzo Cimino elegge al primo turno ben sei consiglieri tre professionisti e tre pubblicisti e due revisori dei conti un professionista e un pubblicista tra i professionisti su 63 aventi diritto che si sono recati nei seggi di Campobasso, Iserni e Termoli il primo eletto è stato Cosimo Santimone con 39 voti poi Pasquale Bartolomeo con 36 e Antonio Chiatto con 33 i tre posti ancora da assegnare se li contenderanno nel ballottaggio di domenica prossima Pasquale Florio, Andrea Nasillo, Sergio Bucci, Domenico Bertoni, Pino Cavuoti e Anna Maria Di Matteo tra i pubblicisti affermazione bulgara di Vincenzo Cimino con 400 preferenze sulle 462 a disposizione poi Marcella Tamburello e Luigi Albiniano tra i revisori dei conti elette per i professionisti Antonella Salvatore e Valentina Cocco per i pubblicisti balottaggio invece tra Francesco Bottone e Celeste Barbato Appassionati di auto d'epoca provenienti da tutte le regioni si sono dati appuntamento ad Isernia per intraprendere un tour culturale ed enogastronomico del Molise abbiamo seguito la manifestazione con la nostra troupe non è stata qualche goccia di pioggia di un'uggiosa domenica d'inizio autunno affermare un gruppo di appassionati di auto d'epoca provenienti da tutta la regione e così in tempo di covid non si rinuncia ad una bella giornata all'aria aperta ritrovo e colazione in via 24 maggio a Isernia di lì quindi le tappe successive Carpinone sfrecciando attraverso il borgo sotto lo sguardo sorridente dei più curiosi poi Pietrabbondante con la visita agli scavi archeologici del teatro Tempio Sanitico quindi aperitivo assalcito e infine pranzo rigorosamente a base di prodotti tipici a pochi passi dalla morgia dei briganti un gruppo di amici insomma organizzati dall'infaticabile Rino Serricchio che ha salutato l'arrivo dell'autunno tra festosi clacson, brindisi ed una sana allegria Convivialità, amore per le vetture d'un tempo ammirazione per le bellezze archeologiche del territorio e cucina a chilometri zero un mix perfetto che si è concluso dandosi appuntamento alla prossima uscita E adesso diamo uno sguardo alle previsioni del tempo Previsioni del tempo per martedì 29 settembre la pressione in aumento favorisce un miglioramento del tempo con relativo aumento delle temperature ampi spazi soleggiati, venti moderati mare molto mosso queste le temperature nel dettaglio Campobasso minima 9, massima 19 gradi Sernia minima 8, massima 18 gradi Termoli temperature comprese tra i 16 e i 21 gradi Venafro minima 8, massima 18 gradi E allora il momento dello sport ci vediamo tra un istante E allora prima giornata di campionato per la serie D prima di scendere nel dettaglio dei match vediamo quali sono stati i risultati nel girone F Aprilia Campobasso 0 a 3 Fiuggi Castelnuovo 0 a 1 Montegiorgio Castelfidardo 2 a 0 Agnonese Matese 0 a 4 Pineto San Nicolò 1 a 2 Porto Sant'Elpidio Torentino 0 a 2 Real Giulianova Vasto Girardi 0 a 2 Re Canatese Albalonga 1 a 0 Rieti Vastese 0 a 0 Nella classifica dunque a 3 punti ci sono Matese, Campobasso, Montegiorgio, Tolentino, Vasto Girardi, San Nicolò, Recanatese, Castelnuovo, ad 1 Rieti La rimanente classifica ha 0 punti E allora un super Campobasso Espugna, Aprilia, Bontà, Esposito e Cogliati firmano il successo dei Lupi Che partita, che esordio Blitz del Campobasso Nel Pantano di Aprilia Lupi strepitosi Avanti già al diciannovesimo Con questa conclusione In semi rovesciata del centrocampista Bontà che approfitta di uno svarione Della difesa laziale A mettere al sicuro i primi tre punti stagionali Ci pensa nella ripresa Sua Maestà, Vittorio Esposito Non ci sono parole per descrivere Questa opera d'arte Il Tris, infine È frutto della sponda aerea di Sforzini Del tocco di Vitali Della furbizia Di Bomber Pietro Cogliati 3 a 0 E testa della classifica Da difendere fino al termine della stagione Colpo Vasto Girardi Real Giulianova al tappeto In gol per gli alto molisani Mercai e Guida Il debutto nella surrealtà Anche Giulianova sperimenta L'avventura del calcio ai tempi del covid Federico Del Grosso che oggi riabbraccia Ed allena il fratello gemello in campo Si trova di fonte Gli arcigli giallo celesti Di prosperi Reduci da una stagione dignitosa E quanto mai onorevole Entrambe connubiano Esperienza e gioventù Minuti iniziali di marca giallorossa Danna prende la mira e punta Guerra Che rispinge con i pugni Mitta è lì ma è presente È pronto l'estremo giallo celeste Palla in angolo dagli sviluppi del corner Cross dalla sinistra di Di Lollo Paudici all'impatto salva ancora Guerra E quando il portiere molisano sembra essere superato Ci pensa Ruggeri ancora dopo A sventare il tentativo di Mitta Dalla linea della porta Nell'azione si fa male Danna Che deve essere sostituito da Ravanelli L'organizzazione e la spinta giallorossa Ne risentono Il vasto Girardi reclama un penalty al 22esimo Quando Guida va giù su contatto di Cucchi L'arbitro fa notare come la caduta è accentuata E non si fa ingannare a Modendo Tra l'altro il numero 10 Prove con insistenza Ma fino al finire di tempo Non ci sono sussulti E proprio allo scadere Ruggeri manca clamorosamente la sfera Sciupando la più clamorosa opportunità ospite Per andare in vantaggio 0-0 al break Ma la ripresa si apre subito Con il vantaggio dei molisani Paudice perde Palla a centrocampo Guida va di gran carriera Tocca al lato per Mercai Che a giro vanifica Amadio Ed insacca per l'1-0 Nel Giulianova fuori Dercole dentro Barlafante Si rafforza la linea offensiva Ma c'è ancora un break molisiano E stavolta è Camarà Al settimo a graziare Amadio Mancando a sorpresa lo specchio della porta 8 minuti dopo Imbarazzo di Amadio Su pesce che si salva grazie alla poca potenza Del tiro Ma subito dopo è show di Mercai Con uno scavetto delizioso Che sfiora il raddoppio Messe di cambi Sull'uno e sull'altro fronte Il Giulianova guadagna in agonismo Ma l'assenza di conclusioni verso la porta È preoccupante Non si preoccupa invece il vasto Girardi Ancora in brecca Al quarantesimo con guida Palla per Bruni E Paloraso ad incrociare Al quarantaduesimo Il Giulianova pareggia Palla sui piedi di Antonelli Che cerca il varco E lo trova nell'angolino Ma l'arbitro Vanifica e annulla Sussegna l'azione del direttore di linea Per un offside Sicuramente Non dell'autore del tiro Al quarantasettesimo Il gol annullato E quindi subito Azioni di contropiedere molisani Che compiono con Bruni E realizzano con guida Il più perfetto dei delitti Zero due E fine delle ostilità Agnonese in difficoltà Al Civitelle Vince il Matese Dell'ex Corrado Urbano Vince il Matese Dell'ex Corrado Urbano L'Olimpia agnonese Paga a caro prezzo Il noviziato Di gran parte della Rosa È una condizione atletica Da migliorare Al Civitelle La prima gara Dell'era Covid Dopo uno stop Durato sette mesi Senigallesi Mette in campo Un undici arcinio Ma la determinazione Non basta Affermare la tecnica Dei campani In campo Iex Kuzmanovic Albanese Barbato Minicucci E Dilullo Al settimo La gara si sblocca Ci mette del suo Il giovane portiere Granata Che sbaglia il rinvio Il resto lo fanno Gli avanti Di Urbano Con Ambrè Finalizzatore Eccezionale Nei campani C'è Negro Attaccante vecchio stampo Ci prova Ma questa volta Serrafino È impeccabile Il Matese È squadra strutturata Qui il pericolo Arriva da palla inattiva Da calcio d'angolo Costantino In semi rovesciata Centra in pieno Il palo Al minuto Diciassette Si vede finalmente L'undici di Senigallesi Amadou Coné Uno dei pochi Superstiti Della scorsa stagione Mette fuori Di testa Da buona posizione Poi Non coglie l'attimo Frenato da Kuzmanovic Con l'azione Che si conclude Con un sinistro Di Lombardi Che avrebbe Meritato Maggiore fortuna Nel miglior momento Dei locali La doccia fredda Il 2-0 Firmato da Negro Che di testa Non lascia scampo A Serafini Tre minuti dopo Il match Va in ghiacciaia Con il solito Abrei L'assist È invitante La rifinitura Davvero Sensazionale Gol Da applausi Che vale Il prezzo Del biglietto La ripresa È proforma L'Agnone Non ne ha più Un sussulto Del solito Conè Spezza La monotonia Mentre Tra una sostituzione L'altra Arriva anche Il poker Della squadra Dell'ex urbano Questa volta A festeggiare Eminicucci Centracompista Offensivo Che ad Agnone Ha giocato E lasciato il segno Il battese È una buona squadra Che si salverà facilmente E anzi Potrà ambire Anche a qualcosa Di più importante Per l'Agnonese Invece Il cammino È decisamente In salita Seconda giornata In eccellenza Vediamo quali sono stati I risultati Intanto Alla Fidelis Isernia Non si è disputata Per impraticabilità Del campo Poi Ururi Campo di Pietra 4 a 0 Boiano Sesto Campano 2 a 1 Campobasso 1919 Baranello 1 a 3 Castel di Sangro Real Guglionesi 0 a 3 Pietra Monte Corvino Alto Casertano 0 a 3 San Leucio Volturnia Termoli 1922 A 0 Venafro Gambatesa 2 a 0 Quindi la classifica Con 6 punti Per Alto Casertano E Venafro 4 per Aurora Aururi Real Guglionesi Boiano Isernia Campo di Pietro Sesto Campano Baranello San Leucio Volturnia 3 punti 1 punti 1 punti per Ala Fidelis Termoli 1920 Gambatesa 0 punti per Pietra Monte Corvino Castel Sangro Campo Basso 1919 Seconda giornata anche per la promozione Atletico Atletico San Pietro San Pietro in Valle Campomarino 1 a 1 Cliternina Guardialfiera 5 a 0 Fortore Virtus Gioiese 1 a 1 Polis Petacciato Maronea 2 a 1 Spinete Torre Maggiore 3 a 1 Termoli 2016 Samnium 2 a 0 Trivento Quartiere Campo Basso Nord 2 a 0 Turris Ripalimosani 2 a 1 In classifica Cliternina è a quota 6 punti a 4 Gioiese Atletico San Pietro in Valle 3 punti per Turris Termoli 2016 Spinete Petacciato Maronea Quartiere Campo Basso Nord Trivento Guardialfiera 2 punti per Fortore 1 punto a Campomarino e Ripalimosani 0 per Torre Maggiore e Altilia Samnium Questo era l'ultimo aggiornamento Grazie per averci seguito Arrivederci